Un promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea tende a rinforzarsi sul mediterraneo centro-occidentale, garantendo anche sull'Italia condizioni di tempo stabile e temperature progressivamente in aumento. In Toscana, sabato 10 giugno, sereno poco nuvoloso per nubi alte e sottili in mattinata, locale sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sull'Appennino, venti deboli in regime di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature in ulteriore aumento. Anche sul territorio provinciale cielo sereno poco nuvoloso, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 16, massima 30 gradi, a Castelnuovo-Garfagnana e zone montane minima 13, massima 28, a Via Regge sul litorale minima 18, massima 25 gradi. Domenica situazione stazionaria e temperature massime in aumento almeno di 2-3 gradi. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!